Colpo grosso del Campo Verde che batte il Città di Pomezia per 2 a 1. In un primo tempo soporifero parte forte la capolista con una gran palla in profondità per Marinucci che scappa sull'auto sinistro. Stoppa di testa, calcio a botta sicura e il portiere respinge. Sulla ribattuta Marinelli salva sulla linea. Privo di Fusco, Puxeddu, Toscano e Sebastiani in Città di Pomezia gestisce comunque il match che si accende sul gong del primo tempo con una verticalizzazione sulla destra e un cross verso il centro con Castiello che in volè va vicino al gol. Poi la svolta, calcio di punizione del Campo Verde, palla per De Angelis che rapidissimo si gira nello stretto, calcio di collo pieno ed è gol. 1-0 Campo Verde. Nella ripresa i Pometini si trasformano. Entrano Natoli e Caprioli per Gianfrancesco e Colò e la musica cambia. Subito, al settimo, splendida palla in profondità di Vatalaro per Castiello, cross teso dalla sinistra per Natoli che spizza, arriva Caprioli a botta sicura e in sacca ed è 1-1. Premiati subito i cambi di mister Sebastiani. Risposta Campo Verde al quarto d'ora. Il capitano Alò riceve palla al limite dell'area, carica un potente mezzo esterno e la palla termina a lato. I Pometini tornano a dominare. Splendida verticalizzazione di Toscano per Natoli che in perfetta solitudine, anziché calciare, inventa un assist per Girace. Gol, anzi no. L'arbitro Singh di Aprilia annulla per offside. Sul finire del match, espulso Alò per doppia munizione. Ma quando la gara sembra in ghiaccio, Verticchio serve a neoentrato Cicoli sul filo del fuorigioco. Cicoli si accentra dalla sinistra, cerca il piatto interno e beffa Crisafulli. 2-1 Campo Verde. Per proteste, Alessio Caprioli viene espulso e finisce così. Prima sconfitta stagionale, ma niente drammi per il città di Pomezia. La marcia verso la vetta è soltanto rallentata. Con la tua rete avete portato a casa un'ottima vittoria contro la capolista, finora in battuta. Cosa hai pensato in quel momento? Ho pensato solo di mettere la palla nella rete. Una svolta per il nostro campionato. Un piccolo passo falso che non cambia gli obiettivi stagionali? No, sinceramente credo che siamo una delle squadre favorite. Infatti oggi è la prima sconfitta, però se continuiamo a giocare così, erano 3-4 partite che stavamo giocando male, ci diceva bene. Quindi forse è una sconfitta anche un po' a salutare. Comunque rivedo merito a loro che hanno fatto una grande partita.